Ben trovati in studio, seconda parte del nostro telegiornale, c'è la politica comisana. Si è definito il quadro dei candidati a sindaco, saranno in tutto sei. Entro il 15 maggio bisognerà presentare le liste con i consiglieri comunali. Meno un mese alle elezioni amministrative di Comiso, tutti i candidati a sindaco sono scesi ufficialmente in campo. In tutto sono sei. Sabato si sono presentati alla città Carmelo Sollemi, sostenuto dalla lista Comiso Riparte, e Giovanni Tumino, sostenuto dai casmenei l'ultimo cittadino. Carmelo Sollemi, stimato tecnico radiologo presso l'ospedale Regina Margherita di Comiso, è espressione di che ha fatto politica, ma che adesso non si riconosce più nei partiti tradizionali, è espressione del malgoverno della città di Comiso negli ultimi 15 anni. Comiso Riparte, ha spiegato Sollemi, è un movimento che si vuole dedicare a coloro che sono impegnati nel lavoro quotidiano e da cui deve prendere avvio il cambiamento. Insieme a Sollemi, diverse forze politiche, associazioni e movimenti che si presentano come la vera alternativa all'amministrazione uscente di Alfano che si ricandida. Gli altri quattro aspiranti a sindaco sono Filippo Spataro che questa mattina ha presentato la coalizione che lo sostiene, tra cui PD, UDC, Megafono, Territorio e alcune liste civiche. E ancora Giovanni Tumino, Elena Enzac, Il Grillino e Eugenio Bonifacio, che ieri sera ha dato il via alla campagna elettorale con l'inaugurazione della sede. Entro il 15 maggio bisognerà presentare le liste con i candidati al Consiglio Comunale, obbligatoria la presenza di almeno 7 donne su 20 consiglieri, prevista, lo ricordiamo, la doppia preferenza di genere, ovvero bisognerà votare se un uomo sia una donna dello stesso partito. Soglia di sbarramento per entrare al Consiglio Comunale è il 5%. Da Comiso ci spostiamo a Ragusa, nuovi cambiamenti in vista, l'orizzonte si profila, ancora una volta Franco Antoci sul cui nome si sta cercando di far convergere tutto il centro-destra. Punta nuovamente su Franco Antoci il centro-destra ragusano, il nome che circolava da mesi pare avere rotto gli indugi, ma la riserva non è stata ancora sciolta. Antoci ha trovato infatti l'appoggio ufficiale del Movimento Civico Ibleo, che solo sabato aveva presentato il nome di Brink, è quello di Ragusa protagonista, lista civica che fa capo al senatore Giovanni Mauro. Disposto a fare un passo indietro, forse perché mai stato convinto fino in fondo, è anche Salvo Mallì a quota PDL. Resta da chiarire a questo punto cosa farà Barone. Al momento l'ex esponente di giunta non mostra alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa, a meno che il pressing su di lui non si faccia insistente, soprattutto non gli venga offerto un posto di rilievo nella futura giunta. Insomma, Barone come calabrese sulla poltrona di vicesindaco. A fremere a questo punto Giovanni Cosentini, che sa che la discesa in campo di Antoci può essere l'ostacolo più difficile da superare, il vero rivale da abbattere, perché l'ex presidente della provincia gode di un consenso non da poco, non solo tra le liste che lo sostengono, ma anche tra quegli elettori che non si ritrovano con l'Udc della migliore, tutti simpatizzati del centrodestra che non si identificano con Barone. Cosentini dunque trema, forse come mai aveva fatto in questa campagna elettorale, spaventato dal ritrovarsi per l'ennesima volta con in mano la medaglia d'argento. E se anche il versante del centrodestra tira un sospiro di sollievo per avere trovato finalmente un suo uomo, resta l'amaro in bocca per una situazione che è stata risolta per il rotto della cuffia, senza alcuna dimostrazione di quell'autorevolezza che faceva il tratto distintivo del partito guida della coalizione, e cioè il PDL. E invece il partito berlusconiano non è mai uscito dalla crisi in cui è caduto da più di un anno, per nulla aiutato dai suoi stessi uomini di punta in provincia, Minardo e Assenza, che tra silenzi e autoproclamazioni non si sono certo sbracciati a difesa del loro partito. Come allora convincere l'elettorato a farlo? Questa mattina in Viale Colaiani a Ragusa la presenza del prefetto annunziato Vardè e del commissario straordinario del comune Margherita Rizza è stata effettuata la consegna dei lavori di ristrutturazione del compendio edilizio ex CPTA da edibire a centro polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati irregolari. Il Ministero dell'Interno ha infatti comunicato che è stato approvato il contratto stipulato tra il comune di Ragusa e un'associazione temporanea di imprese per realizzare l'intervento. I lavori di ristrutturazione dovranno essere realizzati entro 16 mesi. A Vittoria gli ex ausiliari della Sosta non ricevono il loro stipendio da oltre 4 mesi. I dirigenti sindacali dell'UGL hanno incontrato i vertici delle maia per chiedere spiegazioni. Vediamo. Ausiliari senza stipendio da 4 mesi. I dipendenti che nei mesi di novembre e dicembre 2012 hanno lavorato per le maie di Vittoria in qualità di ausiliari della Sosta adibiti al controllo delle zone blu da oltre 4 mesi attendono ancora di percepire le somme aspettanti per il lavoro svolto. Stanchi di aspettare un gruppo di questi lavoratori si è rivolto ai sindacalisti dell'UGL. I rappresentanti sindacali hanno chiesto ed ottenuto un incontro che si è tenuto negli uffici della Firemaia con l'attuale direttore della municipalizzata Epparina Paolo Sbezzo allo scopo di individuare un percorso utile a garantire il diritto alla certezza del salario già ampiamente maturato dalle ex dipendenti EMAIA. Si tratta di lavoratori che hanno svolto il proprio dovere con competenze e professionalità e adesso aspettano la liquidazione delle somme dovute. Il direttore delle EMAIA, fanno sapere dal sindacato, ci ha presentato un quadro economico dell'azienda estremamente grave caratterizzato principalmente da una preoccupante mancanza di liquidità che non può essere coperta dagli esigui trasferimenti del municipio di Vittoria né dagli introiti delle varie manifestazioni feristiche che ad eccezione della sola fiera di San Martino riescono a malappena a coprire le spese. Un quadro generale che non permette alle EMAIA di liquidare il dovuto agli ex dipendenti e che ha costretto il dottore Sbezzo a formulare un piano di rientro che vedrà il suo epilogo solo alla fine di ottobre o più probabilmente ai primi di novembre del 2013 proprio in coincidenza con la fiera di San Martino. A Vittoria programmata una mobilitazione per giorno 24 contro l'ex Serit, il servizio. Dopo le parole si passa ai fatti. Programmata una mobilitazione per giorno 24 maggio presso Piazza del Popolo a Vittoria contro l'ex Serit. Nel mirino è proprio l'atteggiamento vessatorio e persecutorio di riscossione Sicilia e questa è la decisione pervenuta dopo la riunione che si è svolta sabato pomeriggio nella sede della CNA di Vittoria. L'incontro ha visto all'appello i rappresentanti del Consiglio Comunale e i titolari di diverse imprese associate. L'accusa, mossa contro l'ex Serit, oggi riscossione Sicilia, è quella di essere una struttura societaria composta per il 90% delle azioni di proprietà della Regione Sicilia, così come spiega la stessa nota della CNA. L'iniziativa raccoglie il malcontento della gente sempre più con la mare in bocca per una crisi che avanza e per le difficoltà nel ricevere la congestione dei prestiti. Così da un panorama non rosio per il territorio si mobilita la battaglia lanciata dalla CNA che raccoglie le voci spente e stanche di famiglie e imprese che in poco tempo sono state travolte dalla crisi, incapaci di pagare regolarmente le tasse e non di evasori incalditi. Alla fine dell'incontro è stato deciso anche di convocare un Consiglio Comunale aperto sulla questione. E da oggi fino a venerdì 10 maggio presso l'ex convento di Santa Teresa a Ragusa Ibla la struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania organizza un ciclo di manifestazioni dal titolo Giornate Ible della Germanistica. Si tratta di 5 giorni di incontri dedicati alla lingua e letteratura tedesca che vedranno la partecipazione di numerosi studiosi italiani e stranieri. Oltre a singoli seminari, conferenze e presentazioni di libri, mercoledì 8 maggio si svolgerà una giornata di studi sulla letteratura tedesca. Indetta una tavola rotonda tra Aspe di Ragusa, Clinica del Mediterraneo e Adi Consum. Al centro il nostro sistema sanitario. La sanità pubblica e privata si incontrano per rispondere ai bisogni della gente. E questo è il tema che è stato affrontato nei giorni scorsi presso la sede dell'Ordine dei Medici di Ragusa. Una tavola rotonda che ha visto interloquire l'Asp Ragusa e Clinica del Mediterraneo e al cui centro è stato posto il cittadino, unico vero principio ispiratore del nostro sistema sanitario, come ha precisato il presidente dell'Adi Consum, Giovanni Cerruto. All'incontro anche il deputato regionale Giuseppe Di Giacomo, che rincuora sulla situazione sanitaria siciliana. Nessun taglio al personale pubblico e innalzamento della qualità del servizio. La miglioria sul fronte dei servizi sanitari per i cittadini proverrebbe proprio dal privato convenzionato, come ha sostenuto il commissario dell'Asp 7, Angelo Aliquò. La sanità è della gente e non della politica. Grazie al privato convenzionato abbatteremo i lunghi tempi di lista di attesa e ricostruiremo quella fiducia nella sanità pubblica locale che tanto manca al cittadino. Adesso lo sport con il calcio. Finisce l'avventura del vittoria calcio. I biancorossi hanno perso ieri per 1-0 contro il 2 Torri. A decidere la partita un gol è a due minuti dalla fine di Venuti, attaccante della squadra messinese. Al vittoria sarebbe bastato anche il pareggio, ma un gol annullato agli Ipparini nei supplementari per fuorigioco ha sbarrato la strada verso la Serie D. Ed è tutto per questa edizione. In chiusura vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e 21 andrà in onda una nuova puntata di 15 minuti con l'ospite di oggi è Sergio Fiorilla, podologo di Vittoria. Continuate a seguire la nostra informazione anche sul sito all'indirizzo free tv online 1.it e sulla nostra pagina facebook free tv comiso. Grazie per essere stati con noi. A domani. Grazie per essere stati con noi.